Dopo la deludente performance di sabato scorso contro la Monnalisa Savinese, la GRM Club Arezzo vuole riscattarsi e dimostrare tutto il proprio valore. Per farlo avrà la non aggiornata di campionato in Serie C, una sfida tutt'altro che facile, contro la terza forza del campionato, la pallavolo sestese. Sabato prossimo vedremo affrontarsi in campo i più giovani del volley toscano contro la società più antica d'Italia, appuntamento alle 21 nella palestra Balducci di Sesto Fiorentino. Per la coach Morelli sarà una sfida vincente, sabato giocheremo contro una squadra di alto livello ben costruita e ottimamente condutta da mister Serafini. La sestese può contare tra le proprie fila degli atleti molto validi ed esperti come Giovanni Di Benedetto, Andrea Pietropaolo e il forte alzatore Stefano Marchi. Aspettatevi una sfida vincente, dice Morelli, nonostante i numerosi problemi che da inizio stagione ci perseguitano con costanza, ci faremo trovare pronti per affrontare al meglio questo match. Dopo le splendide partite vinte a Firenze dalla GRM Club Arezzo, due risultati straordinari contro la Sales Volley e l'Olimpia Firenze, gli aretini si preparano dunque ad affrontare questa pallavolo sestese, una società nata nel 1945, la più longeva d'Italia.